Seconda tappa del circuito Ristogolf 2021 by Allianz, nello straordinario percorso del golf club Biella Le Betulle. Seconda tappa del circuito Ristogolf 2021 by Allianz, nello straordinario percorso del golf club. Seconda tappa del circuito Ristogolf 2021 by Allianz, nello straordinario percorso del golf club. Un percorso sincero come l'ha definito l'amico di Ristogolf Costantino Rocca, sincero come i partecipanti di Ristogolf, 152 in shotgun. Sincero come il benvenuto di Ristogolf con l'accoglienza e la colazione, sincero come le sei postazioni sul percorso, le sei postazioni gourmet, tratto distintivo di Ristogolf. Sincero come lo show cooking dove sono intervenuti chef straordinari del territorio, sincero come le premiazioni e sincero come la festa, il party della serata. Amici Ristogolfisti, sempre così numerosi, vi aspettiamo alla prossima tappa. Amici Ristogolf ersten Grazie a tutti.